Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del canale di fotografia di Player 2 Lighting e in questa nuova lezione del corso di Adobe Lightroom Classic continuiamo ad approfondire il discorso sullo strumento mascheratura. Qui in descrizione trovate la playlist ufficiale di questo corso di Lightroom o anche la playlist ufficiale del corso di fotografia online e gratuito che organizziamo da più di 10 anni su questo canale. E ora passiamo su Lightroom. Già nella scorsa lezione abbiamo visto che quando clicchiamo sul menu mascheratura ci compare la prima volta la lista di tutti i tipi di maschere che possiamo utilizzare. Se per esempio seleziono il pennello e faccio una selezione qualsiasi vedo che adesso il menu cambia perché mi compare questo piccolo riguadro dove posso creare nuove maschere come quelle prima però ho anche una lista di tutte quante le maschere che ho già creato con varie opzioni come per esempio aggiungi, sottrai e un po' più nascosto anche interseca maschera con che vedremo tra poco. Su uno strumento che abbiamo già disegnato quindi possiamo aggiungere delle maschere oppure anche sottrarle. Per esempio in questo caso potrei sottrarre un altro pennello anche se è un po' inutile per come funziona il pennello e rifinire meglio questa selezione oppure potrei aggiungere per esempio una sfumatura radiale e andare a selezionare anche un po' diciamo in una maniera un po' meno precisa la mucca dietro e qui potrei modificare magari un po' l'esposizione o cose di questo genere. Ma vediamo subito un esempio un po' più pratico su una fotografia. su questa foto di un corvo di montagna per esempio possiamo dare una veloce aggiustata alla temperatura colore e al contrasto e chiaramente questo dipende da voi il look che volete dare a una fotografia però vedendo questo volatile potremmo volere intervenire solamente su di lui e potremmo prendere il pennello e metterci a disegnare tutto quanto però vediamo che ha un piumaggio piuttosto evidente sul contrasto e quindi potrebbe essere un'operazione un po' difficile e che non ci permette di raggiungere un risultato perfetto. Quello che possiamo fare in questo caso è fare seleziona soggetto e qui Lightroom rileva in automatico il soggetto che ci interessa però vediamo che ha fatto un ottimo lavoro con il piumaggio ma ha incluso anche parte di questa ringhiera. A questo punto vediamo su questo menu che abbiamo una selezione di soggetto alla quale possiamo sottrarre un pennello e con il pennello che abbiamo appena creato possiamo andare a disegnare sopra la ringhiera che non ci interessa di modificare e in questa maniera stiamo togliendo la selezione da questa parte di dettaglio e vediamo che la parte rossa ci aiuta a capire dov'è la selezione che ha fatto Lightroom e a questo punto abbiamo una selezione che toglie la parte della ringhiera però rimane l'uccelletto con questa selezione molto precisa sul piumaggio. A questo punto possiamo modificare solamente la selezione nel menu del trattamento della maschera e visto che stiamo scattando in Raw abbiamo molti dettagli anche nelle zone di scuri e di ombre e se alziamo la voce ombre vediamo che possiamo ritirare fuori tantissimo dettaglio sul piumaggio in questo caso io alzerei anche la chiarezza cosa che rende più contrastata l'immagine ma mantenendo però il dettaglio che siamo riusciti a recuperare ovviamente quanto andiamo a post produrre sta al nostro gusto potremmo andare a fare una modifica molto più esagerata su questo volatil oppure potremmo decidere di fare magari appena appena un piccolo tocco di post produzione questo come abbiamo detto dipende tutto quanto dal nostro gusto e dal tipo di fotografia che vogliamo ottenere andando a vedere un'altra fotografia di me che sono qui ad Anguillara possiamo selezionare il cielo che probabilmente non avrà bisogno di aggiustamenti e sul cielo possiamo recuperare un po' abbassare un po' le luci e magari aumentare leggermente il contrasto e renderlo un po' più blu però se vedo il mio viso appare un po' smorto, un po' bianchiccio magari sempre sulla fotografia generale potrei aumentare un po' la temperatura colore però un'altra cosa che potrei fare è fare seleziona soggetto che so andrà a selezionare me in questa fotografia e potrei cliccare su interseca maschera con e farò pennello quello che succede in questo caso è che qualsiasi cosa disegnerò con il pennello andrà a intersecarsi appunto con la selezione preesistente in questa maniera posso andare a selezionare velocemente il mio viso magari premendo alt posso non andare a prendere la parte dei capelli però so che anche se sbordo con la selezione oltre il viso grazie al fatto che di base sto utilizzando una selezione a soggetto il dettaglio non andrà fuori dopo che ho fatto questa selezione potrei andare a modificare un po' la temperatura colore e fare un colore leggermente più caldo sul mio viso e queste sono operazioni che come vedete possiamo fare velocemente e basta un piccolo tocco senza esagerare troppo con le modifiche per dare un aspetto magari in questo caso un po' più naturale all'immagine la meccanica di base dell'interazione tra le maschere è questa come vedete è piuttosto semplice ma ho preparato un altro po' di esempi per darvi un po' di idee e di spunti come potete utilizzarlo anche nelle vostre fotografie in quest'altra fotografia scattata anguillare per esempio potrei fare una sfumatura lineare per magari andare a modificare un po' l'acqua che c'è qui e posso creare questa sfumatura andare a vedere magari cosa potrei fare magari renderla un po' più blu un po' più luminosa e magari aumentare un po' la chiarezza per tirare fuori un po' di dettaglio e andando qui sul bordo potrei rifinire il gradiente scegliendo di farlo magari o più preciso con il bordo oppure tirarlo più giù lo vedremo tra un attimo però visto che non voglio andare a modificare l'uccelletto potrei fare sottrai seleziona soggetto ed è questa la potenza di questo nuovo aggiornamento di Lightroom dove abbiamo questi strumenti automatici che ci semplificano molto il lavoro e vediamo che in questo caso ha capito bene di selezionare l'uccelletto e anche la sua ombra e se andiamo a vedere le modifiche che facciamo sull'acqua anche se andiamo a esagerare completamente bianco o completamente blu vediamo che l'uccelletto comunque rimane non modificato e questo ci permette di cambiare per esempio molto di più il colore dell'acqua potremmo fare che questo gradiente in realtà è più morbido e potremmo andare a spostarlo così per dare un effetto magari che vogliamo dare questo effetto di blu che si perde nell'orizzonte per quanto riguarda la paesaggistica anche qui ci sono diversi giochetti che possiamo fare in questa fotografia scattata alla Gazzuoi l'anno scorso potrei fare una prima modifica veloce magari su contrasto, chiarezza renderlo un po' più caldo, un po' più freddo, forse un po' più caldo e a questo punto potrei fare, seleziona cielo e quindi vado a far selezionare automaticamente al Lightroom il cielo vedo che ha preso anche un po' di montagne e qui potrei per esempio andare a sottrarre un pennello e potrei andare ad aggiustare a mio piacimento un po' l'aspetto delle montagne ma vedremo che in questo caso non è così importante soprattutto nella parte delle vette soprattutto magari potremo andare a modificare questa zona qui che è quella che ci interesserà vedremo tra un attimo perché quindi posso andare anche da quest'altro lato e vado a cancellare qui così un po' la selezione a questo punto invece di andare a modificare direttamente tutto quanto il cielo per esempio potrei farlo più caldo quello che posso fare è intersecarlo con una sfumatura lineare e quando faccio questa selezione intersecata quello che posso ottenere è praticamente di andare a selezionare soltanto una striscia di cielo dietro le montagne e questo mi permette di creare un effetto ancora più diciamo distante dalla realtà perché potrei simulare con un po' una temperatura di colore più calda un po' di tinta e magari anche la saturazione potrei simulare una luce che potrebbe essere quella del tramonto o dell'alba dove sul fondo vedo che il cielo e le nuvole stanno diventando un po' rosate questo di nuovo sta sempre a voi sapere se volete modificare così tanto una fotografia oppure se volete andare a fare soltanto dei ritocchi più delicati quindi sempre per quanto riguarda i paesaggi potrei andare su questa fotografia scattata in un sottobosco e vado a modificare come sempre un pochino la temperatura colore e il contrasto questo principalmente perché mi piace dare una base sui file RAW che scatto e a questo punto una cosa che farei senza bisogno di fare molte interazioni selezionare questa parte e abbassare un po' le luci per togliere un po' l'attenzione che andrebbe subito su questo punto e facendo un altro pennello potrei selezionare questa zona che è un po' scura del bosco in primo piano e qui potrei aumentare l'esposizione per dare un'impressione maggiore che ci sia il sole che sta illuminando da dietro il bosco però visto che con il pennello non posso controllare molto la sfumatura perché se per esempio vado fino a qua vedo che sto aumentando l'esposizione di tutto contemporaneamente quello che potrei fare è sottrarre di nuovo una sfumatura lineare questa è la cosa che utilizzo di più e creare una sfumatura lineare in questa maniera che mi permette di controllare quanto è morbida la transizione tra la zona che ho illuminato con questa maschera e la zona invece che non vado a toccare se spengo vedo che in questo caso ho creato una zona un po' più di interesse sulla fotografia e non è così cupa come era inizialmente penultimo esempio che voglio farvi vedere è di questa fotografia a talamone per farvi vedere che l'interazione delle maschere funziona anche per le selezioni che si occupano per esempio dell'intervallo colore o quello di luminanza se per esempio con intervallo colore vado a selezionare l'argano, questo argano rosso se voglio modificare solamente lui vedo che cambiando l'esposizione in realtà sto andando a influenzare anche questo dettaglio in primo piano e questa parte qui quindi di nuovo posso tornare indietro, cambiare il colore magari della selezione così lo vedo un po' meglio e posso aumentare un po' l'area che viene influenzata da questa selezione sottraendo con semplicemente un pennello i dettagli che non mi interessa modificare quindi potrei fare una modifica qui e tutta la parte qui dietro potrei andare a cancellare così a questo punto questo argano in primo piano potrei a mia scelta andare a modificarlo come temperatura colore per magari renderlo ancora più rosso e attirare di più l'attenzione o potrei scegliere per esempio di desaturarlo un pochino e in qualche modo distogliere l'attenzione solamente su questo se volessi magari andare a attrarre l'occhio di chi sta guardando la fotografia su un altro dettaglio e rimanendo sulla selezione di intervallo colore ci dobbiamo ricordare che possiamo utilizzare l'interazione tra le maschere anche per addizionare i diversi tipi di maschere e riuscire a selezionare tutto quello che vogliamo se per esempio clicco su intervallo colore in questa foto del lago di carezza potrei cliccare qui e magari tornando al rosso come colore di selezione vedo che nella parte di acqua qui sotto non ho selezionato tutto quindi potrei fare aggiungi intervallo colore e potrei selezionare anche questa parte andando magari a rifinire un po' la selezione per prendere tutto quello che mi interessa a questo punto l'acqua dell'acqua la potrei rendere per esempio più blu più satura è un po' più luminosa per attrarre di più l'attenzione però se vado a vedere sto modificando anche i monti in lontananza quindi come abbiamo visto posso fare una sfumatura lineare per esempio andare a fare una sfumatura girata in questo senso che va a togliere tutto quanto il dettaglio che si trova sopra il lago e quindi adesso anche se vado a modificare maggiormente la selezione vedo che tutto il resto della fotografia rimane intatta come sempre per dubbio suggerimenti potete iscrivermi su carlochioccia dal player2.com e se avete nuovi argomenti che volete affronti in questo corso potete anche scriverlo qui sui commenti di youtube potete seguire player2 lighting su tutti quanti i social sul sito e anche sulla newsletter ma mi raccomando adesso che avete finito questo video andate subito su Lightroom e iniziate a sperimentare con lo strumento mascheratura grazie per aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo grazie a tutti